Si è pensato che insieme a Confindustria noi potremmo cedere loro a acquistare quando loro hanno capienza e noi abbiamo i cassetti pieni, perciò si è pensato a questa lettera di intendi per creare questa sorta di borsino, chiamiamolo così, di raccordo tra domanda e offerta, anche qui ci sono tantissime imprese che hanno tutti lo stesso problema. Non possiamo assolutamente essere d'accordo, è stato un fulmine al Celsereno, io dico che alcune cose che sono così importanti e così pesanti hanno bisogno di una programmazione, non possono fare notte tempo il CDM e la mattina trovi la novità che ti dice cosa dovevi fare il giorno prima, il giorno dopo, questa cosa non è sostenibile. L'utilizzo degli spazi dell'F24 può essere una soluzione anche parziale? Dovrebbe, è una delle soluzioni, stanno cercando di dare la possibilità alle banche di pagarci gli F24 così le banche dovrebbero riaprire e avere capienza loro, hanno vietato, perché come è anche noto, la cessione degli enti pubblici, noi con Lancia Abruzzo, con la regione Abruzzo avevamo già, forse c'è stata anche già la delibera di giunta, però il famoso 16 e il CDM ha vietato la gestione agli enti pubblici. Così si fa un po' di strategia del terrore, allora chiaramente chi era in dubbio non partirà, ma il problema era chi è già partito e deve andare avanti, perché altrimenti qui rimane l'Italia paralizzata. Un passaggio obbligato dove anche noi del sistema confindustriale ci prendiamo le nostre responsabilità nei confronti del sistema e quindi stiamo cercando di creare una sorta di domanda offerta dove si mettono a disposizione quei crediti per i quali si ha molta disponibilità, pensiamo che sono 19 miliardi in tutta Italia, in modo tale da poter ridare vigorosità a tutto il sistema dell'edilizia. Si sta rischiando la paralisi, però questo è lo stato dei fatti attualmente? Diciamo che più che rischiando è quasi un dato di fatto e quindi c'è bisogno di una immissione di denaro fresco tramite l'acquisto di questi crediti fiscali, dove noi aziende possiamo in qualche modo dare una mano per far risollevare tutto il sistema dell'edilizia. Nel Terramano e in generale in Abruzzo qual è la situazione? Più o meno come quella in tutta Italia, molti cantieri si stanno bloccando, molti cantieri non partono proprio perché non c'è la disponibilità finanziaria da parte dei costruttori. Le aziende non vengono da un periodo molto semplice perché ci sono state delle congiunture molto forti, quali quelle delle materie prime, le energie, la difficoltà della ripetibilità delle materie prime ed ovviamente un mercato di stagnazione poiché incertezza soprattutto anche per la situazione del settore automotive. Però noi sappiamo che le aziende italiane sono sempre state molto forti, molto ben patrimonializzate e quindi riescono in qualche modo a sopravvivere a questa situazione.